buongiorno all'evangelista luca sta molto a cuore il tema della ricchezza e il rapporto con il denaro siamo al capitolo 16 versetti dal 9 al 15 e il discorso è piuttosto chiaro luca mette in guardia dal trasformare la ricchezza il denaro i soldi in un idolo che si sostituisce a dio per luca l'attaccamento alle cose materiali può davvero diventare una specie di religione nascosta anche addirittura evidente oggi nel mondo nel quale tante persone provano a trovare più sicurezza nel possedere nell'accumulare nell'avere dei beni anziché nell'adesione fiduciosa alla presenza di dio nella loro vita attenzione luca non condanna in maniera assoluta le ricchezze sa molto bene che sono utili e che servono alla sussistenza in questo mondo la parola che l'evangelista mette nella bocca di gesù però indirizza chiaramente alla finalità per la quale il signore mette a disposizione i beni materiali servono per condividere e la solidarietà il fine di tutti i beni che il signore ha messo a disposizione della nostra vita terrena a nulla servirebbe infatti una vita con tante garanzie e certezze se fosse una vita isolata autoreferenziale individualista quella dei farisei apparentemente uomini di grande fede diventa proprio questo una vita per i propri interessi che separa divide a lontana dagli altri ecco allora l'importanza di dare a dio il giusto posto mettere lui davanti a tutto e renderci conto che in fondo non c'è nessuna assicurazione terrena che possa custodire dall'incontro con il passaggio definitivo della morte e che la domanda sul domani che un domani di eternità può trovare risposta solamente nella ricchezza spirituale che abita nell'intimo di ciascuno di noi ma che si manifesta nella concretezza dell'aiuto reciproco della solidarietà della condivisione per vivere insomma una spiritualità autentica per tradurre la fede in dio in qualcosa di credibile è necessario utilizzare le ricchezze terrene che ci sono e che servono strumento di solidarietà perché non ci siano più poveri e perché ci possa essere una autentica famiglia umana di figli e figli di dio che si amano reciprocamente buona giornata dunque scegliendo dio al primo posto e non mai la ricchezza o i soldi